Il tuo passaggio, il tuo passaggio da ragazzino del Bimaio in Argentina alla prima squadra, le emozioni che può trascurire naturalmente a tutti questi ragazzi che sono convinto che tu gli sognino ad arrivare evidentemente a sedia e fanno anche meglio a sognarlo, ma cosa devono fare in particolare per affermarsi? Sì, innanzitutto buonasera a tutti, penso che da bambino uno ha il sogno di diventare il calciatore, ma penso che al di là di questo deve pensare a giocare a calcio, divertirsi, perché questa è la cosa più importante, diventa una professione, ma penso che alla vostra età dovete pensare a divertirtevi e niente, solo questo.